Paola Caruso racconta del suo dramma. Il test del DNA. Ecco Paola Caruso e la nuova rivelazione clamorosa. Ha deciso di effettuare il test del DNA. Sicuramente Barbara D'Urso sarà pronta ad accogliere questa delicata notizia. Ormai prossima al parto, l'ex bonus di Avanti Un'altro, Paola Caruso, vive sicuramente una vita che non è priva di sorprese. L'ultima riguarda una donna che si è fatta avanti, sottolineando che ritiene essere sua madre. Le due donne si sono incontrate per la prima volta a Domenica Live e la showgirl ha quindi annunciato. I suoi occhi sono sinceri, voglio fare il test del DNA. Ha proseguito Paola Caruso. Adesso che l'ho vista non posso ristare con questo dubbio. Se sono io ho trovato mia madre e se non sono io, comunque questa donna ha una bambina da qualche parte. Magari grazie a me riuscirà a trovarla. Auguriamo alla futura madre ogni bene. Le parole alla D'Urso. È pronta Paola Caruso e la nuova rivelazione clamorosa sarà sicuramente accolta a Domenica Live. La presunta madre di Paola a Barbara D'Urso ha chiarito. Io non voglio niente. Sono convinta che quella bambina che mi avevano detto che era morta è Paola. Voglio fare il test del DNA anche per i miei figli. La presunta madre di Paola Caruso era apparsa in trasmissione col volto oscurato per spiegare. Non voglio soldi, non voglio pubblicità, ma voglio che tu sappia che non ti ho abbandonata. Ti mando un bacio e voglio fare il DNA, ricordalo questo. Tutto pronto per Michelino. Se Paola Caruso e la sua nuova rivelazione clamorosa sulla presunta madre è prossima, Di sicuro Michelino è pronto a venire al mondo. Il nome del bimbo di Paola Caruso è lo stesso del suo padre adottivo che purtroppo è morto da poco. Auguriamo alla futura mamma ogni fortuna e felicità. Ciao! Ciao!